Ciao a tutti, ho saltato l'appuntamento della settimana scorsa perché sono stato via, mi sono fatto un giretto in Portogallo e di conseguenza mi sono andato a cercare e a vedere le architetture portoghesi. In genere prediligo le architetture contemporanee, ma ovviamente quando uno è in viaggio e soprattutto io come architetto vado ovviamente a cercarmi tutti i monumenti, tutte le architetture, anche quelle storiche, dal medievali, barocco, rinascimentale, neoclassicismo, insomma tutto quello che c'è è da vedere in una città con tutte le sue attrazioni. Però essendo un architetto e appassionato di architettura, anche quella più moderna, più contemporanea, ovviamente mi vado a cercare prima di partire un po' cosa c'è da visitare, anche perché molte volte nelle guide tradizionali non le trovi e quindi oggi volevo farvi appunto una carrellata di quello che potete andare a trovare appunto in Portogallo. A proposito, volevo fare anche il podcast in viaggio, quando ero in viaggio, ma come più volte ho detto per me questo podcast è un piacere farlo, non ci sto guadagnando per adesso proprio niente e per cui ero in viaggio mi sembrava un po' una costrizione, non era poi più un piacere, allora ho lasciato perdere, ma anche se cerco di adesso recuperare con qualche episodio in più. Spero che non ve la prendete male, ma anzi vi invito ad iscrivervi al canale così che appunto magari non sono così professionale e puntuale nei nostri appuntamenti settimanali o appunto se ne faccio qualche episodio in più durante la settimana, verrete avvisati se appunto siete iscritti al canale, quindi iscrivetevi e seguitemi. Allora, torniamo al viaggetto, in genere appunto come dicevo quando visito una città mi vedo tutti i monumenti principali con tutte le cose che le normali guide consigliano, così come fa parte anche mangiare le cose tipiche, seguire qualche, che ne so, per esempio il fado che è tipico portoghese con tutte le usanze che possono esserci, ma oltre a questo come dicevo mi vado a cercare tutte le architetture contemporanee che normalmente appunto le guide magari tralasciano. E anzi a proposito, apro una parentesi, mi faccio un po' di pubblicità, ho proprio iniziato a fare delle guide sulle architetture contemporanee e quindi se cercate anche per dire Andrea Petirigna che è il mio nome su Amazon, ho pubblicato per adesso una guida su Berlino e una su Londra e magari farò proprio anche questa sul Portogallo, su Lisbono, su Porto, magari le metto insieme, ma sono a poco prezzo. Su questo lavoro che svolgo proprio mio personale ho deciso di condividerlo per sperare di guadagnare qualcosa. Finita la pubblicità, allora ritorniamo all'argomento principale, quindi come vi dicevo faccio questa ricerca proprio per me personalmente per cercare e visitare le varie architetture che troviamo nelle città. E allora partendo dall'architettura di portoghesi non posso che citarvi ovviamente i due archistar principali del Portogallo che sono Alvaro Siza e Edoardo Souto de Moura, che tra l'altro si studia anche proprio della scuola di Porto che va a identificare un po' questo tipo di architetture che creano, molto essenziale, molto pulite, con linee nette, con questa anche attenzione alla luce, alle ombre. Insomma magari oggi faccio una carrellata ma magari ne approfondirò nei prossimi giorni. E quindi sicuramente loro sono gli architetti che si sono resi più famosi al di fuori del Portogallo. Ma per fare una veloce carrellata partendo da Lisbona non si può per esempio non visitare, per me dal mio punto di vista, il MAT, che è il Museo di Arte Architettura e Tecnologia, progettato da Amanda Levete Architects, che è uno studio londinese molto interessante anche da vedere esternamente, proprio perché è caratterizzato da questa lieve curva che è dal lungo fiume, questa bella passeggiata, si può proprio anche salire e poi scendere oppure al di sotto in questa curva si crea l'ingresso principale del museo. Bianco, molto luminoso, una bella architettura. Mi pare che l'abbiano anche usato per una pubblicità di una macchina poco tempo fa. Comunque, lì vicino poi possiamo anche trovare un altro museo di arte moderna e contemporanea, progettato dall'italianissimo Vittorio Gregotti e poi in particolare a Lisbona c'è proprio anche la zona dell'Expon e quindi di una zona molto moderna, tutta la zona è molto moderna e contemporanea, ma in particolare c'è il padiglione creato proprio dal Varosiza, il padiglione del Portogallo, che quello non è stato smantellato e lì esistente, che è caratterizzato da una enorme copertura in cemento molto sottile e anche in quel caso normalmente nella facoltà di architettura o almeno nel mio caso l'avevo appunto anche studiato e quindi è la possibilità di vederlo dal vivo. È molto impressionante la piazza che si crea lì sotto, poi di per sé come architettura magari può essere molto semplice, ecco, quindi magari può essere discutibile. Comunque è molto interessante tutta quella zona, c'è anche un oceanario molto interessante fatto da uno studio, se non erro, americano o anche sempre dallo studio americano Somm che ha progettato un palazzetto, poi c'è la zona espositiva che non è un architetto famoso ma comunque molto grande e molto interessante e per finire Lisbona c'è la stazione orientale progettata da Santiago Calatrava, uno spagnolo anzi catalano Santiago Calatrava che ovviamente ogni volta che gli si commissiona o lui vince un concorso per una stazione, ne ha fatte più di una, sono dei progetti molto spettacolari, molto belli insomma da vedere. Poi passando a Porto, come già vi dicevo precedentemente, ci sono tutte le varie architetture di Alvaro Siza come la facoltà di architettura che è proprio realizzata da Alvaro Siza, così come un progetto che si chiama Piscine sul mare o la Piscine di Leca, che è De Palmera, che è una località balneare proprio nei pressi di Porto, che è una piscina proprio realizzata sugli scogli, quindi magari adesso naturalisticamente un progetto un po' discutibile proprio da mettere tutto questo cemento sulle rocce, proprio sul mare, però anche quello mi ricordo di averlo studiato all'università e comunque magari con tutti i chilometri di costa hanno pensato di sacrificare un po' di natura per rendere fruibile quella parte di costa. Comunque non entriamo nel merito, è un progetto comunque abbastanza interessante di cui se ne parla, così come proprio lì nei pressi c'è un ristorante sempre progettato da Alvaro Siza, che anche quello è un esempio più volte ripreso per spiegare le architetture della scuola di Porto che vi dicevo precedentemente. Così come altri edifici progettati da Edoardo Sotto de Mura, che si trovano anche in questa località balneare, così come soprattutto altre villette private che anche un po' sparse per il Portogallo, quindi anche un po' più difficili da visitare. Così come è stato difficile anche da visitare, però l'ho visto dall'esterno, lo stadio di Braga, il paese fuori Porto, a nord di Porto, per cui ha progettato questo stadio, anche più volte preso, ad esempio, nelle varie spiegazioni, insomma nello studio che avevo fatto all'università e niente, appunto uno stadio molto interessante, con una struttura in cemento armato a vista, quindi con una struttura proprio essenziale, con le scale poste all'esterno, anche che si appoggia, si adagia sul pendio di una collina che c'è lì di fianco, appunto per questo non è stato facile anche da visitare. Comunque anche questo è un esempio molto interessante e bello, insomma, è molto famoso anche, almeno dal mio punto di vista architettonico. E quindi poi per concludere, a Porto, tornando a Porto, l'opera ancora forse più importante ad oggi, che viene anche citata nelle nuove guide tradizionali, è un'opera inaugurata recentemente, realizzata da Rem Kulas, che è la Casa della Musica, che è un edificio molto interessante, molto anche pesante, quasi fosse un cubone sfaccettato, monomaterico, appoggiato in questa piazza, abbastanza in centro a Porto, e però ecco, insomma, molto fotogenica, meglio ancora la sera, quando questi enormi finestroni vengono illuminati con colori diversi, e anzi, penso che sia, non l'ho visitato all'interno, ma vedendolo così da fuori, mi sembrava anche molto interessante, e anche da varie foto che ho visto, l'interno, proprio perché caratterizzato da questi materiali traslucidi, dal colore, da questa luce così molto intensa che si vede all'interno, vabbè, comunque, magari ne approfondirò meglio questo, così come qualche altro progetto, nei prossimi giorni, quindi seguitemi, oggi era semplicemente una veloce carrellata di quello che potete trovare in Portogallo.